Un incontro qui in prefettura per chiedere cosa? Per chiedere il full time dell'internalizzazione che c'è stata in ospedale. Noi siamo entrati il primo di maggio e adesso vogliono internalizzare altre persone. Però non è questione che noi siamo contro l'internalizzazione delle altre persone. Noi siamo perché ci portino tutti noi di vecchio stampo, parlo di io che sono 26 anni che lavoro, a portarci alle 36 ore settimanali senza internalizzare, internalizzare, internalizzare cosa vuoi? Internalizzare sempre, dico, c'è le persone a due ore, a due ore e mezza, dico... Quanti sono i lavoratori che si trovano in una situazione come la sua? 688, che non stanno da 26 anni come me, ma ci sono altri che stanno da 15 anni, da 20 anni, da 8 anni, da 10 anni. Sono persone che hanno fatto la gavetta per poi lasciare, dico, la... Secondo voi di chi è la responsabilità? La responsabilità è un po' di tutti. Politica, amministrativa dell'ospedale e soprattutto delle persone che stanno facendo dei giochi politici. Questi sono solo dei giochi politici per fare internalizzare persone, per poi arrivare al resoconto dei voti, però internalizzarle, dico... Quindi vi sentite un po' usati in tal senso? Sì, sì, molto usati, molto usati, molto usati, politicamente e in tutti i sensi. Da quanto tempo dura la vostra situazione? La mia situazione dura da 26 anni. Ci sono gli altri colleghi, dico, chi da 25, chi da 20, dico... Sempre in una situazione di precarietà? Sempre precarietà, precarietà. Ora chiedete che sia la volta giusta, insomma, che cambino le cose? Sì, non fare un'internalizzazione accanita di tutti, ma soltanto, dico, prima sistemare quelli che hanno fatto la cavetta, quelli che meritano... La meritocrazia veramente non è stata mai applicata, comunque... E non fare entrare delle persone che poi alla fine dobbiamo fare una guerra fra poveri.